Musica Prosegue il ciclo squilibri, organizzato dall'Istituto regionale di studi europei presso il Centro Culturale Zanussi di Pordenone. Il giornalista del Messaggero Veneto, Stefano Polzott, ha presentato Guido Scorza, docente di nuove tecnologie presso l'Università di Bologna, che ha parlato di contraddizioni e squilibri nel mondo di Internet. Ospite dell'incontro, anche il Digital Champion di Casarsa Matteo Troia, attivo nel panorama dell'educazione digitale nelle scuole. Che cos'è l'agenda digitale dell'Unione Europea e come si colloca l'Italia secondo i dati del 2014? L'agenda digitale europea è niente di più niente di meno della roadmap che tutti i paesi membri dell'Unione devono seguire per arrivare al 2020 con un livello di infrastruttura e di di servizi digitali adeguato. L'Italia, a quanto racconta la Commissione Europea, si colloca sfortunatamente in questo momento all'ultimo posto nello stato di attuazione dell'agenda digitale europea ed è in particolare indietro per il numero di cittadini che utilizzano Internet. Il 31% degli italiani non l'ha mai utilizzato. Che ricetta propone per uscire da questa situazione? Investire nella cultura e nell'alfabetizzazione digitale, cioè mettere in cima alla lista delle cose da fare la gente e le persone, trasmettergli l'abilità e la cultura per utilizzare gli strumenti, quindi forse meno investimenti in infrastrutture pure necessari, ma più investimenti in alfabetizzazione al digitale, in cultura nei cosiddetti digital skill, scoprire e restituire alle persone il piacere di usare Internet. Cos'è un Digital Champion e come ti sei meritato questo titolo? Allora, un Digital Champion è un facilitatore che mette in collegamento i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni, diciamo anche che va a scovare quali sono i problemi, le problematiche dell'impresa, del libero professionista, della pubblica amministrazione, aiuta questi enti a formalizzare diciamo il loro problema e mette in collegamento chi ha il problema con chi potrebbe fornire la soluzione. Nel mio caso il ruolo di Digital Champion, io rientro tra i primi 100 Digital Champion italiani, mi è stato affidato per i miei corsi di alfabetizzazione informatica che ho fatto nel mio comune di residenza, Casasso della Delizia, e per la mia forte passione alla cultura digitale, nonché per i miei studi di informatica che sto portando a termine all'Università di Udine. Tutto volontariato? Tutto volontariato, sì, Digital Champion proprio per definizione non ha budget. E ci puoi parlare più nello specifico di cosa hai fatto nelle scuole, di questi coder dojo? Sì, allora, coder dojo è l'unione della parola coder, che significa programmatore, colui che scrive codice, con dojo, palestra dal giapponese, quindi un coder dojo è una palestra di programmazione. Noi cerchiamo di entrare nelle scuole a portare questa iniziativa, prendiamo i bambini, li mettiamo davanti al computer e li proponiamo di costruire e di realizzare un videogioco, non è importante che loro sappiano già programmare, anzi, preferiamo coloro che invece proprio non conoscono nulla di informatica, di programmazione. L'obiettivo non è formare dei futuri informatici, ma quanto dei bambini capaci di risolvere i problemi, di ragionare, di trovare delle soluzioni, di capire che magari non esiste un'unica soluzione, ma anche soluzioni alternative allo stesso problema e quindi l'obiettivo è aiutarli e insegnarli a pensare, a ragionare, a usare la logica.